è in corso in queste ore a pomigliano d'arco un servizio a largo raggio da parte dei carabinieri della compagnia di castello di cisterna insieme a quelli del nucleo cinofili del comando provinciale di napoli del reggimento campania nella lente dei controlli effettuato grazie anche al prezioso contributo del nucleo carabinieri artificieri il complesso di edilizia popolare 219 diverse le perquisizioni domiciliare nelle aree comuni che hanno permesso di rinvenire a sequestrare diverse armi e droga i carabinieri in alcune aree comuni del complesso hanno già trovato due pistole semiautomatiche calibro 9 cariche e pronte all'uso una pistola tamburo 357 magnum carica un fucile da caccia due pistole scacce cani prive del tappo rosso e 20 cartucce calibro 12 non solo armi ma anche droga sequestrato un panetto di hashish da 150 grammi e diversi manoscritti verosimilmente riconducibili all'attività di spaccio e sui quali verranno svolte le dovute indagini un controllo capillare che ha permesso al momento di controllare 36 auto e di identificare 50 persone il servizio di controllo prosegue grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti